La Corte d'Assise di Caltanissetta ha condannato all'ergastolo e il boss latitante Matteo Messina Denaro per le stragi di Capace e Via D'Amelio. La Corte d'Assise di Caltanissetta lo ha riconosciuto infatti tra i mandanti. Nelle stragi del 92 persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti delle scorte Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Agostino Catalano, Emanuele Aloi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. La sentenza è stata emessa poco prima della mezzanotte di ieri, dopo oltre 13 ore di Camera di Consiglio. Il boss trapanese ricercato dal giugno del 1993, fedelissimo di Totò Riina, è stato condannato anche al risarcimento delle parti civili che si sono costituite. Decise provvisionali di 500 mila euro ciascuna alle vedove e ai figli delle vittime, di 300 mila euro ai fratelli, mentre ai nipoti somme fra i 10 e i 50 mila euro. L'ergastolo inflitto a Matteo Messina Denaro per il procuratore generale di Caltanissetta, Liasava, è un grande risultato per la procura. Abbiamo messo insieme pezzi di tanti contesti investigativi diversi, ha detto la DN Cronos, e tante dichiarazioni e riscontri anche risalenti nel tempo. E siamo arrivati alla condanna. I figli del giudice Paolo Borsellino considerano la condanna all'ergastolo per Matteo Messina Denaro come un tassele in più rispetto ad un accertamento e la verità che ha formazione progressiva, ha detto l'avvocato Vincenzo Greco, che rappresenta la difesa e la famiglia del giudice Borsellino. Al di là della soddisfazione per il riconoscimento delle costituzioni delle parti civili, è un passo in più rispetto a un lavoro ancora più grande che si sta svolgendo e siamo molto grati alla procura di Caltanissetta per il lavoro svolto e per l'impegno che ha profuso.